Ciao a tutti ragazzi, io sono Maki ed eccoci qui con un nuovo episodio della Bachelor Challenge. Ragazzi, oggi è il giorno delle eliminazioni, quindi la prima ragazza uscirà ufficialmente dalla sfida. Questa cosa mi spezza il cuore perché io già le amo tutte, vorrei che non se ne andasse nessuna. Però deve essere fatto, quindi direi di partire subito. Allora, stavo facendo parlare il nostro William un po' con le varie ragazze, giusto così, perché si sono svegliati di mattina e si sono messi un po' tutti a chiacchierare. Qui vedo che anche loro stanno un po' interagendo, stanno andando molto d'accordo, quindi sono molto felice. Allora, Will in realtà si era svegliato con i desideri pieni di Farra, cioè voleva parlare con Farra, assolutamente. Adesso invece mi ha spuntato che vuole imparare a conoscere Eloise, quindi io lo farò sicuramente. Per il momento stavo parlando qui con Megan perché comunque vuole anche chiacchierare un po' con le ragazze che purtroppo non hanno avuto occasione di fare un appuntamento. Ecco, giusto per sapere come stanno e scusarsi di non essere riuscito a trovare del tempo anche per loro. Quindi giustamente lui è venuto qui a parlare un po' con tutte quante, magari anche a lei facciamo rallegra. E poi impariamo a conoscere Eloise. Andiamo un po'. Allora, ecco qua, impara a conoscere. Livello 3 di logica. Vedo che Darla va spesso qui ed è anche flertante perché prima era vicina a Will e la sola vista di un sim può colpire dritta il cuore. Oddio Darla, quindi tu ti stai infatuando davvero di Will. Adoro. Ah, vuole imparare a conoscere Shelby. Vediamo un po'. Ah, ok, sì, perché gliel'avevo detto io. Ok, anche lei vuole parlare con Shelby. Volevo vedere se magari qualcuno aveva delle interazioni su Will e lei. Ragazzi, lei vuole fare i fighi fighi con Will. Il fighi fighi non è permesso. Però diciamo che non mi sorprende vedere questo desiderio proprio da Cherry. Non mi sorprende affatto, però adoro. Adoro veramente. Le eliminazioni inizieranno alle 3. Quindi abbiamo ancora qualche ora per rilassarci. Ok, impara a conoscere. Dai, dato che lo volevi fare. Lui peraltro, ragazzi, vuole baciare qualcuno. Brave persone. Aspetta. William trova interessante chiacchierare con Sim con un'ottima morale e volontà. Uh, troppo disinvolto. A volte un Sim desideroso di darsi un tono può sentirsi invece in imbarazzo in presenza di un Sim amato. Ma in che senso? Perché è attratto... Perché credo sia attratto appunto da Claire. Non so se anche da Eloise. Sì, ok. Anche da Eloise. Quindi si sente un po' impacciato forse in loro presenza. Non lo so. Però adoro questa cosa. E lei è pure molto flirtante, ragazzi. Adoro tutto ciò. Uh, ok. Questo è sempre impara a conoscere. Io penso che spuntino delle interazioni nuove. Ma in realtà è che sono lenti a fare quelle che dico io. Va bene. Ok, perfetto. Adesso magari potresti... Cos'è questo? Ma sì, dai. Leggi qualcosa. Si passeranno un po' il tempo tutti quanti. Come non contiene libri? Ma in che senso la libreria non contiene libri? Ma in che senso? Ma perché? Vabbè, allora guarda. Ci rinuncio. Magari vieni qui e flutto all'indietro. Ma sì, dai. Ti rilassi un po' così. Perché comunque le eliminazioni sono un po' stressanti per tutte. Lasciamo che le ragazze qui parlino un po' tra di loro. Le vedo molto amichevoli. Quindi sono contenta. Anche perché comunque, essendo che è la prima eliminazione, ancora non c'è tanto questa competizione. Soprattutto secondo me tra quelle che non hanno avuto l'appuntamento. Perché ancora, cioè si conoscono veramente da poco, non c'è questa cosa che devono vincere assolutamente. Secondo me questo senso proprio di competizione si sentirà molto di più nel vivo proprio della sfida. Quando rimarranno soltanto tipo tre, quattro ragazze. Perché lì davvero si vorrà vincere, secondo me. Perché entreranno in gioco anche i vari sentimenti. Ma Claire sta pulendo. Scioccata ragazzi. Lei peraltro è purente dopo una conversazione al telefono. Ok. Vediamo, tu che fai? Ok, lei sta mangiando. Farra è qui che non fa niente. Ma non vorrei che fosse bloccata perché è seduta qui da un sacco di tempo. Quindi magari la faccio spostare. Magari parla un po' con loro. Dai, facciamo. Uh, relate to Shelby's feeling. Ok. Facciamo questo. Lei sta ancora parlando con le altre. Anche lei. Lui sta fluttuando all'indietro e lei sta guardando i classici della tv. Anche lei vuole fare fighi fighi con qualcuno. Adoro ragazzi. Mi fanno morire. Lei vuole conoscere un cane perché sappiamo che lei ha l'aspirazione degli animali. Ok. Ma tutto bene. Tutto bene Will? Ma respiri? Sei vivo? Ragazzi, ma... Cioè, l'ho trovato morto qua in piscina. Ma in che senso? Will, ma vieni qui. Sono senza parole ragazzi. Che ridere. Allora, questo lo tolgo perché non abbiamo libri a quanto pare. Quindi non posso leggere. Ma... Cosa? Ragazzi! Chiedi a Eloise di diventare la fidanzata. Ma questo è un plot twist assurdo. Sono scioccata ragazzi. Cioè, secondo me questa uscita che hanno avuto in spiaggia gli è piaciuta particolarmente forse magari rispetto alle altre perché forse proprio l'atmosfera della spiaggia. Non lo so. Ma adoro! Cioè, ragazzi, questo è una cosa assurda. E vedo che qui vuole chiacchierare con Claire. È lei che sta venendo a chiacchierare con lui. Io la voglio osservare perché se fa la cattiva spero di no. Ok, no. Semplicemente voleva chiacchierare con lui. Lui però vuole buttare il cibo avariato. Sì, secondo me, qui... Io vedo poca chimica, onestamente. Però non lo so. Perché vedete, lei è venuta a parlare con lui e lui se ne sta andando a buttare il cibo avariato. Tirare fuori il meglio. William può essere ispirato a dare il meglio di sé in presenza di un Sim che adora. Ma chi è che adora lui? Ah! Lui adora Megan. Ragazzi, sconvolta. Non sapevo che adorasse Vega. Vabbè, che adoresse Megan. Ammaliato. A volte i sentimenti romantici possono lasciare un sim in stato inebriante come se fosse sotto l'influenza di un incantesimo. Sono sconvolta, ragazzi. Sono veramente sconvolta. Ok, veniamo a parlare con Megan dato che l'adora. Facciamo ora Allegra. Dai, venite qui e parlate un po'. Lei è ancora flertante in tutto questo? Adoro. Magari le descriviamo anche la nuova idea. Questo io non lo tolgo, ma... Sono sconvolta, ragazzi. Dai, parliamo un po' con loro che non hanno avuto l'appuntamento. Perché veramente mi dispiace che purtroppo non hanno avuto la loro occasione. Perché... Sono super simpatiche anche prese. Ok, dai, parlate un po' tutti. Ma guardate Claire come si è avvicinata subito per parlare con Will. Sì, Claire, ragazzi, vuole rimontare assolutamente. Secondo me Claire ha capito che intanto quello che ha fatto a Will non è piaciuto. E poi che in generale forse secondo me non lo vede molto preso. Quindi vuole rimontare in questo senso. Adoro. Adoro questa cosa. Però secondo me non si sta divertendo. Cioè, secondo me lei ha tutto un suo piano. Però non è che è davvero interessata a lui. Magari più avanti si interesserà a lui. Però non lo so se adesso lo è. Quindi chissà. Sono molto... Non so. È da vedere questa cosa. Cosa succede qui? Ok, Darla ha raggiunto il livello 4 di logica. Niente, Darla proprio si è dissociata. Adesso sta andando a chiacchierare con... No, stava andando a chiacchierare con Megan ma... Mi sa che non stanno chiacchierando più. Ok. E loro stanno continuando qui a parlare. Oddio, ma sono le 14! Dobbiamo iniziare le eliminazioni, ragazzi. Quindi togliamo l'autonomia e iniziamo ad andare. Oddio, ragazzi, ci siamo! Ed eccoci qui, ragazzi. È il momento delle eliminazioni. Abbiamo il nostro Will qui che sta guardando il mare. Ed è arrivata la prima ragazza che lui salverà. Questa ragazza è... Rullo di tamburi... Cherry. Ebbene sì, ragazzi. Con mia grande sorpresa, lei ha la relazione più alta. Quindi dobbiamo salvarla. Prima dobbiamo chiederle se è single. Perché durante la prima eliminazione va chiesto questo. Ma guardate come si danno il bacio tipo a saluto! Adoro! Quindi dobbiamo chiederle se è single e poi darle la sua rosa. Cos'è questo? Fresco e desuberante! William si sente fresco e pulito come la stanza in cui si trova. L'amore è nell'aria e fortunatamente non possiamo dire lo stesso della polvere. Ma sei all'aperto! Vabbè, lasciamo perdere. E diamole la rosa. Allora, vediamo se c'è l'interazione dai la rosa. Altrimenti... No, non lo vi... Ah sì, offri una rosa. Ok, dai. Allora facciamo questo. Dalle la rosa. E... Cherry, tu sei salva. Guardate com'è contenta. Adoro! Ecco, aspettate che voglio assolutamente fare una foto di lui qui con la rosa. Perché, cioè, ci sta assolutamente. Voglio vedere l'espressione di Cherry appena la riceve. Ecco, guardate com'è contenta di essere la prima ad essersi salvata. Eccoci qua. Cherry, tu sei salva. Che succede? Sussurra seducentemente! Vabbè, lo devi fare, ma... Ma guardateli! Adoro! Cioè, lui le sta dicendo apprezzato davvero tanto il nostro appuntamento. E non vedo l'ora di poterne fare degli altri insieme. Perché vorrei davvero imparare a conoscerti. Che succede? Fatti fare il bacio a mano! Lei sta dicendo, ma il sentimento è reciproco, Will. Assolutamente! Bricconcelli! Adesso basta, però. Tu puoi andartene. E direi di chiamare la prossima ragazza ad essersi salvata. Eccoci qui, ragazzi. La seconda ragazza che si è salvata durante queste eliminazioni. Non poteva non essere lei, ragazzi. Eh? Rullo di tamburi. Ma è farro, ovviamente, ragazzi. Perché a parte che lui ha un sacco di desideri con lei. Ma con lei ha la seconda relazione più alta. Quindi io adoro, adoro questa cosa. Allora, chiedile subito se è single. Perché dobbiamo fare le stesse cose anche con lei. E poi le diamo la rosa. Ok, ovviamente Farra è single. Quindi diamole subito la sua rosa. Con lei non possiamo fare l'interazione. Perché ovviamente non abbiamo neanche la barra romantica. Però le daremo il regalo romantico. Io ho comprato qui delle rose. Quindi, forza. Vediamo un po' se le piacerà. Guardate com'è flertante lui! Adoro! Adoro! Ok, andiamo un po'? Ecco, questa rosa è per te. Guardatele com'è felice! Sei salva, Farra. Anche tu sei salva. So che non abbiamo potuto fare il nostro appuntamento. Però spero davvero che ce ne sarà l'occasione in futuro. Quindi questa rosa è per te. Scusate, ragazzi. Stavo per chiamare la prossima ragazza. E ho ritrovato qui Claire che sta facendo la cattiva di nuovo con Shelby. Ma questa cosa è assurda. Cioè, pure il giorno delle eliminazioni vuole intimorirla. Secondo me sì, questa cosa deriva magari dalla sua insicurezza. Il fatto che comunque Will la vede per quello che è. Nel senso, ha visto che lei è maleducata. Quindi si capisce che Will è infastidioso da questa cosa. E quindi lei se la sta prendendo con Shelby. Ma perché? E vabbè, purtroppo la povera Shelby è diventata vittima. È diventata vittima di Claire. Vabbè, non importa. Comunque, torniamo alle eliminazioni. Ok ragazzi, eccoci qui. È la terza ragazza che si salva. Ebbene sì, è Claire. Lei è la terza ragazza con il maggior numero di relazione. Cioè, in realtà questa cosa mi ha un po' sorpresa. Perché non è che... Cioè, lui non lo vedo molto preso da Claire. Secondo me qui va in gioco proprio l'attrazione fisica. Che magari può provare per lei. Non so se salvarle è una buona mossa. Però, dato che lei ha la relazione maggiore, dobbiamo fare così. Anche se, non so, lui non lo vedo molto preso da lei. Ma vabbè, comunque la salviamo. Ha giocato molto il fatto anche che lei ha avuto l'appuntamento magari. Quindi l'appuntamento l'ha aiutata ad avere un maggior numero di relazione romantica. Allora, vediamo se possiamo fare offri una rosa. No. Quindi le diamo il regalo romantico. Quindi diamo le rarose in questo modo. Anche tu, Claire, sei salva. Lei tipo sì, lo sapevo che mi avresti salvata, Will. Ed ecco qua. Se salva anche tu. Ok ragazzi, la quarta ragazza a salvarsi è... Tarla! Ebbene sì, anche lei, diciamo, l'appuntamento l'ha aiutata molto nella relazione qui con Will. Adesso si sono dati il bacino in guancia per salutarsi. Quindi anche lei viene salvata. Quindi le ho già chiesto se è single, diamole la rosa. Vediamo un po' se posso darle proprio la rosa. No. E allora, anche qui diamole il regalo romantico. Perfetto. Quindi sì, dai, anche lei si salva. Diciamo che sono più sorpresa del salvataggio di Claire che di darla in realtà. Però vabbè, dai. Comunque c'è stato l'appuntamento e questa cosa ha aiutato Claire perché l'ha conosciuto un pochino meglio. Ok, a lei la rosa è piaciuta, quindi ottimo. Adesso possiamo andare... Cos'è questo? Senza lavoro. Vabbè, per ora se stai facendo questa sfida, che lavoro vuoi avere? Vai pure lì e magari sai cosa? Te ne vai in bagno. Tu smetti di parlare con lei, car Will. Perfetto. E adesso passiamo, ragazzi. Mancano le ultime tre ragazze. Quindi abbiamo Megan, abbiamo Shelby e abbiamo Eloise. Ragazzi, qui c'è un pareggio a dire il vero. Perché abbiamo una ragazza che ha la minore relazione, quindi tra loro tre ovviamente, e due ragazze invece che hanno lo stesso numero di relazione. Quindi io le porterei tutte e tre qui. Quindi facciamo, porta qui, portiamo qui anche Shelby e portiamo qui anche lei. Ragazzi, sono nervosissima per questa eliminazione perché io non voglio eliminare nessuna di loro tre. C'è proprio nessuna di loro tre. Io le adoro. Mi dispiace un sacco. Veramente. Però dobbiamo eliminarne una. Ok, sta arrivando anche Shelby. Qui qualcuno sta chiamando Farra. Cosa? Scusate, ma Jay Huntington che chiede a Farra se lui è una persona attraente? Vabbè, Farra è tutta per il body positive, l'accettazione di se stessi, quindi gli dirà di sì. Sì, però spero che questa cosa non mi abbia instaurato qua una relazione con lui. No, perfetto. Non volevo rischiare. Allora, abbiamo queste tre tesorelle. Vieni magari qui. Aspettate, le citto un pochino qui perché non ha senso che debba andare in bagno. Magari anche tu gli aumenti un pochino qui il sonno, l'energia. Allora, eccoci qui ragazzi. Due di queste ragazze non hanno avuto l'appuntamento. Mentre Eloise, sì, ha avuto l'appuntamento in spiaggia e come vedete qui lui le voleva persino chiedere di diventare la fidanzata. Poi, per quanto riguarda Shelby, diciamo che loro due non hanno avuto molto modo di interagire, proprio al di là dell'appuntamento. Però lui era anche un po' incuriosito da lei. Andiamo a vedere le impressioni. Ok, quindi se io vado qui a vedere le prime impressioni, è rimasta ancora questa. Quindi Will pensava che lei fosse ragionevole e Shelby pensava che lui fosse ammirabile. Per quanto riguarda Eloise, è rimasto questo di infatuata. Mentre per quanto riguarda Megan, lui è adorante. William vuole solo il meglio per Megan e pensa che sia davvero meravigliosa. Lei invece pensa che lui sia indipendente ed abile. Detto questo, allora, quella che sicuramente tra loro tre si salva, ragazzi, è Eloise. Quindi, facciamo così, le chiediamo se è single, perché comunque lui vuole chiederle pure di diventare la fidanzata. Quindi c'è chiaramente un interesse da parte sua. E poi le facciamo, vediamo se posso, ecco qua, offri una rosa. Quindi lui le offrirà questa rosa e le dirà, Eloise, tu sei salva. Ok, soltanto che a pari merito con lei c'era anche una di loro due. Quindi adesso ve lo dirò. Intanto, che succede? Ascolta il complimento di Eloise, lei sta dicendo grazie. Sono contenta perché io sono attratta da te. Quindi grazie mille per avermi salvata. Quindi adoro. Però Eloise, adesso tu puoi venire qui. No, ho sbagliato persona, non tu. Eloise, non tu. Vieni qui. Ok, perfetto. Adesso rimangono loro due. La ragazza che aveva il pari merito con Eloise, ragazzi, era Shelby. Shelby aveva 49. Anche Eloise aveva 49. Ora credo che quello con Eloise sia aumentato un po', ecco, 50. Mentre Shelby appunto 49. Andiamo a vedere invece Megan 45. Quindi tecnicamente io dovrei eliminare Megan. Io però, sapete che cosa stavo pensando? Che vorrei che foste voi a decidere. Quindi io terminerei l'episodio qui. E vi chiedo, chi eliminiamo? Eliminiamo Shelby? O eliminiamo Megan? Vi lascerò magari in descrizione un sondaggio. Quindi per favore rispondete assolutamente al sondaggio. Ditemi secondo voi chi eliminare. E nei commenti magari mi scrivete anche perché. Perché tecnicamente appunto per via dei numeri dovrei eliminare Megan. Però lui è adorante nei confronti di Megan, ragazzi. Quindi io sono veramente indecisa. Perché lui ha chiaramente questo interesse per lei. Mentre per Shelby c'è soltanto questa prima impressione. Ancora non hanno parlato tantissimo. Però è anche vero che appunto lei ha la relazione un pochino più alta rispetto a Megan. Quindi ragazzi sì, chiedo assolutamente a voi. Chi devo eliminare? Shelby o Megan? Quindi direi che possiamo fermarci qui con questo episodio. Io vi mando un bacio enorme. Vi ricordo di mettere mi piace, di commentare, di iscrivervi al canale. Se questo video vi è piaciuto. E noi ci vediamo al prossimo video. Ciao! Ciao! Ciao!